signora foglia al padiglione ex 18 la mostra geometria in bilico tra arte e design una mostra che intende far dialogare appunto l'arte e il design è un'impresa difficile sì no è stata un'impresa impegnativa perché ci sono mesi di lavoro alle spalle e ci vorrà un allestimento che occupa parecchio tempo e però è una è una mostra che in realtà prende le fila da due argomenti che sono per natura molto legati per cui non è così difficile metterli in dialogo bisogna trovare l'equilibrio giusto appunto delle geometrie per fare in modo di scegliere opere d'arte oggetti di design che possano dialogare dialogare tra loro e questo diciamo che è stato l'obiettivo la mission di questa e questa mostra i risultati li vedremo li vedrete però per ora dal dal evolversi degli allestimenti direi che stanno prendendo forma e siamo soddisfatti di quello che sta i protagonisti che saranno i protagonisti ci sono saranno presenti alla mostra sia artisti di calibro nazionale e internazionale tra cui benedetta morio baldini enrica borghi giovanni tamburelli mario fallini e tanti altri designer con e giorgio biscaro che sarà una in equilibrio appunto perché è un designer un architetto ma in questo caso realizzerà una un'installazione artistica e ci saranno con l'importantissimo contributo dei mobilieri che hanno facenti parte di federmobili vercelli che hanno aderito al progetto l'hanno sposato con entusiasmo creando un bellissimo gruppo di lavoro in cui tutti si sono messi a disposizione gli uni degli altri anche per realizzare gli allestimenti e saranno appunto prella arredamenti borgo divisione luci non vorrei dimenticarli tutti l'elenco è lungo e non mi piace lasciarne però io parlo adesso per germano in quale anche in prodigato per creare questo gruppo di colleghi e con cui appunto poi è nato il progetto facendolo mettendolo appunto in dialogo anche con con l'arte signor prella infatti lei ha detto che è un evento che caldeggiava da tempo la vostra associazione sì io sono direi quattro anni che avevo in mente quest'idea e parlandone con l'ascomo cercato di di capire come avremmo potuto realizzarla chiaramente ci serviva l'intervento del comune perché ha gli spazi e alla fine siamo riusciti e sono molto soddisfatto perché insomma quattro anni non sono pochi però almeno alla fine grazie all'ascomo che ha aiutato tantissimo e ai colleghi che hanno deciso di partecipare perché questa non era una cosa scontata all'inizio siamo riusciti poi arrivare a un numero abbastanza importante di persone che hanno partecipato e quindi siamo riusciti poi a realizzare l'evento